Lo si vede, qui dentro c'è il centrodestra, c'è il grumo di potere del centrodestra. Se la Lega, che in qualche modo evidentemente si è sentita indispettita dalla posizione rigida che abbiamo assunto sul caso Siri e quindi se la Lega chiede o spera di portare il movimento su quelle posizioni, si sbaglia. La Lega è libera di tornare con Berlusconi perché noi non vogliamo avere alcuna opacità con queste situazioni. Noi vogliamo la legalità, noi vogliamo la certezza e vogliamo guardare, e se la Lega lo vuole fare ancora come scritto nel contratto di governo, vogliamo guardare alle nuove generazioni, vogliamo guardare al futuro. E il futuro è un sì, altro che quelli del no. Finora con la scusa di dire sono quelli del no, la Lega sta difendendo un sistema di potere che trova il grumo anche nelle inchieste giudiziarie in corso.